Ciao a tutti, siamo a Firenze Ciao belli, ciao belli Mandate in comune, ciao Ciao Ari, dove siamo? In una piazza Che piazza? Una piazza dura 4 tempi da 8 minuti Ogni squadra è composta da 13 giocatrici, 7 intercambiabili sempre in acqua Il giocatrice può prendere un massimo di 3 espulsioni, 3 falli gravi E in quel momento la squadra avversaria gioca con un uomo in più per 20 secondi Durante la piazza è possibile che il centro boa prenda un rigore a favore FOS Seguitevi belli, seguitevi e seguite i superosi Grazie